Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata, credo la puntata numero 5 della nostra bellissima Crazy Craft Oggi abbiamo la webcam e sto iniziando a studare in modo abbastanza brutto, devo essere sincero raga Non ho cibo tranne questi pomodori che sinceramente sembrano essere buoni, quindi ci sta tantissimo E nella questa puntata abbiamo fatto boom, nel senso che siamo morti magicamente, visto che abbiamo in realtà un mondo gruppo di nemici che voleva farci la pelle Quindi grazie amici miei, sempre utili Allora, qui vedo un paio di, uh, uh, aspettate Un paio di golden apple co-spawn, non male come cosa E un po' laghicchio, non so bene il perché, sinceramente, voi sei sincero, non ne ho la mia idea Però, sono, sono andando alla ricerca di un po' di roba, perché non abbiamo più materiali ragazzi Abbiamo perso un po' di roba, giustamente siamo morti magicamente a causa di tantissimi nemici che volevano ucciderci E adesso sto cercando di recuperare un po' di mangime Ho i tomato che sì, sono buoni, eh, cioè, non per cattiveria, per i pomodori sono sempre buoni Ma non credo, ci saranno molto utili Qui vedo, ovviamente, il solito pezzo di oro A proposito, questi ori, a vero, non posso romperli comunque, a prescinderli, niente Devo, per forza, allontanarmi un pochetto Infatti poi c'è una piccola mosca che vuole uccidermi, quindi io la, la butto lì e l'ammazzo quasi E lì c'è anche un bellissimo, fantastico, eh, tizio, oddio, oddio Una piccola B, che vuole massacrarmi, presumo Non voglio avvicinarmi a lei, quindi, eh, amica, amica, parliamone, parliamone, no, parliamone Sei un po' pezzente sei, eh Vieni qua, fatti vedere Fatti prendere, fatti prendere Niente, spero che non ce ne siano tanto uno, ragazzi, non ce ne siano migliaia Perché se spuntano migliaia, eh, potete intuire che non sarà una bella esperienza Non ho nemmeno la più l'armatura perché l'ho persa Potremmo tornare in quel dungeon, voi direte, eh, Ulisse, ci si può fare Però, ragazzi, è un po' complicato per varie faccende In realtà io ci proverei anche a tornare, sinceramente, perché Webpoint ce li ho ancora, quindi, che ne so, vado qua, per esempio Ok, provo a tornare E controllo, magari, se c'è qualcuno qua vicino Credo di no, perfetto Quindi potremmo tranquillamente fare così E ok, ok, ok Abbiamo una bella spadina Che, devo dire, molto utile Da un certo punto di vista E, oh, la nostra armatura è tornata, ragazzi Figata E credo di dover buttare un paio di cosette Uh, questa spada, però, è molto più inciendata dell'altra, quindi mi conviene Avevo un paio di cosette interessanti Che, infine, interessanti lo sono, ma Certo, fino a un certo punto Oh, mi si arriva questo E sto cercando di, eh, tipo, buttare la roba che non mi serviva Tipo questi Tipo lemby In realtà lemby la posso fare sempre, però In realtà no, non volevo spendere i soldi, ragazzi Quindi, no, lemby Cioè, le ha soldi, più o meno, tipo, sapete Avete capito che non volevo spendere roba, insomma, easy E, allora, sono alla ricerca di un po' di stragi di mob Allora, questi zombie sono abbastanza normali E li si shotta facilmente Però ci sono quelli stronzi Che invece ti pigliano e ti fanno il culo Quindi, in qualche modo, vorrei cercare di non trovarmeli questi altri Perché possono fare un po' male, ragazzi Giusto un po' Qui c'è un po' di roba, ma non ci interessa A me servirebbe del coal, sapete Coal, coal, coal Credo di averne un po', non ho dei di stick, però Aspettate che mettiamo qui nell'angolo, va Stick, ok Facciamoci, eh, un bel po' di Piccole torciuzze Molto easy Ok E qui abbiamo altri zombie Dobbiamo distruggere il loro spawn, ragazzi Oh, merda Per esempio, ragazzi, uno di quello È strapotente E ci fa abbastanza male, sinceramente Anche il Gatling ci fa abbastanza male Per essere sincero Ok, noi l'abbiamo ucciso Mi servono dei blocchi da costruzione Tipo, non so, anche questi, sinceramente Ora, dove è finito il pezzo di stronzo? Ok, di qui non c'è Io continuerei a esplorare Infatti, abbiamo anche un po' di spawner Che almeno non moriamo Ok, buongiorno Salve Vengo in perfetta Insomma, compagnia di Tanta Uh, spider Chi l'ha visto questo? Ok, in perfetta compagnia di gente E qualcuno ci spara Magicamente Uh, ciao Aia, piccolo stronzo Questo è angry, ragazzi Fa abbastanza male Vieni qua, stronzo Piglia botte, piglia botte Lasci, lasci Lasci la mia vita La smetti di mangiarmi Ragazzi, mi sta mangiando È un pezzo di stronzo Andiamo un po' Zombie È tutto a posto Vedete il nostro piccone Così, c'è il touch Ha la sua bella utilità E qui ci troviamo Uh, ci troviamo con un sacco di nuova gente Questo è un altro angry Che potrebbe fare male E mi sembra una spada un po' più potente Perché, ehi Questa mia non è Gran che buona Ok, credo non ci sia nient'altro di qui Tranne, ovviamente Cibo Cibo E cibo Che ci fa sempre comodo Vieni qua, amico mio Devi piglia un po' i mazzati Ho un po' diminuito la webcam Spero che si veda comunque Bastanza decentemente Perché in realtà È fatta quadrata Così non disturba troppo il gameplay Oh, Cristo Ok, sta piccando tra loro Stanno piccando, ragazzi Perfetto A me piace quando si picchiano tra loro Perché fanno un po' pezzi di stronzo Ehi Ah, no, sei tu quello stronzo Ah Buongiorno, pezzo di merda Ha detto anche il tizio che vuole Fottermi tutti i cosi Sta prendendo fuoco, eh Pezzo di stronzo Ok, ragazzi Tranquillamente noi Lo colpiamo Con disimoltura Se ci va bene Ci trova qualcosa di raro Se ci va male Prendiamo un botto di esperienza Quindi sinceramente A me è fotte e sega Però, hey La sua vita è bella potente Per tempo vedete che tipo Si bugga C'è un problema con questo Con il counter dei tipo la vita E li facciamo tanto Quattro ragazzi Danno cinque di tanto E dovrebbe essere morto Fra poco Ok Mi ho fatto un po' di esperienza Niente particolari Attenzioni per i drop Qualcosa c'è qui Però Me la sta ritando indietro E butterei un po' di questa roba Tipo qua in giro Tipo anche questo coal In realtà il coal mi serviva Merda Vabbè Dettagli 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 Facciamo finta che non ci servisse Magari lo riprendiamo di qua È vero Non posso prendere ragazzi Perché c'ho il piccone Così touch Ma dai pure il creeper Però dai Ok questo è un po' pericoloso Perché ha il gravity Però vabbè Ovviamente creeper Come muori ragazzi Il creeper Semplicemente facendo boom Ok Allora qui sopra ci sono un sacco di spawner Partiamo da questo presupposto Però qui dentro possiamo trovare Anche un sacco di cose interessanti Tra cui tipo Dei cuoricini Quindi mi conviene sicuramente Andare a esplorare questa zona Qua niente Qua vedo un'altra cesta Speriamo subito Trato Ok Un po' di potenziamenti interessanti Un po' di roba buona Dei libri che mi servivano Ho detto già che mi servivano dei libri E ancora un paio di stick Li prendiamo Perché sono sempre buoni Le nostre Enchant book Enchant dictation Scusate Enchant così Ci servono Il qual non ce l'abbiamo Quindi ragazzi Dovrete un attimo Accontentarvi di questa luce Abbastanza pievola E niente male Ciao amico Sei un flying spider Sei spider man Ma senza Senza man Quindi sei solo spider Quindi bravo Hai vinto appena adesso Un campione Di spider Ok non so Oddio Ciao Buongiorno Mi scusi Non vorrei esserla Cioè non vorrei disturbarla Però mi sa che lei è un po' grandicello Per fare se scale Cioè Non per cattiveria Però Magari si metta un po' a lato E se ne vada a cagare Ok magari potremmo usare Questo piccone in cobblestone Che potremmo usare Magicamente Per recuperare del coal Sempre se lo troviamo E infatti sta qua ragazzi Credo di non poter usare L'aven miner Perché qui non c'è l'aven miner Giusto Ormai sono abituato ragazzi A giocare nella mad Perché con l'aven miner Quindi Sono fissato così Prendo shift e bam Buttiamo Senza troppi problemi Prendiamo un attimo un po' di cola Almeno vedete qualcosa Lo so che sto facendo Una delle cose più brutte del mondo Su youtube Ovvero mostrarvi qualcosa Mentre non si vede nulla Però ragazzi Cioè Vogliate In qualche modo Chiedermi venia E Cioè io chiedo venia a voi Facciamo così Più figo E insomma Oddio Ho uno stack di torce Ma anche me ne sono accorto Sono un po' ritardato Sì Diciamo che ho dei problemi Logistici Abbastanza Insomma Si vedono Quindi ci sta Ci sta tantissimo Ok Allora qui ci sono un sacco di Oggettini carini Qui si scende ancora Quindi questa parte la potremmo ancora esplorare E di qui Ragazzi miei Ci trovano un sacco di ceste Abbastanza interessanti Con dentro Roba stupida Dove essere sincero Di avanti non mi sevono Quindi riteniamo Sta roba no invece In realtà devo mettere quella roba che mi sta la ceste Perché Oh che paglia ogni volta andare in giro A cercare roba Qua non c'è nulla Sinceremente Quindi lasciamo stare qui Altra roba inutile Ma i padini solamente li prendo ragazzi Perché sono buoni Anche le docce Sinceremente Quindi ci sta Uh Uh Eccolo Uh addirittura ragazzi Tre E questi sono i pezzi Quindi vanno fatti tipo a quattro Per farli funzionare E usarli E in realtà però Non ne ho trovato altri Quindi dovrò per forza aspettare Un po' Pezzi zero Va bene Dopo che troviamo un altro pezzo Vi faccio vedere come si crafta E io Opterei per scendere ancora più giù Perché più giù ci sono un sacco di robe più belle E più interessanti Quindi si può scendere senza troppi problemi Salve Eh Buongiorno Sto facendo la bellezza di 40 fps In realtà però Vi vedo molto più bassi Non lo so Ma Mi rendo conto del fatto che sia un po' In bassi Non so perché sinceramente Non è una matpack nuova Mi lagga così Beh in realtà La matpack nuova mi lagga un pochetto Però non così tanto Un pochetto estrema come cosa Un pochetto estrema Estrema Ok Allora Lampiamo un po' di roba Cerchiamo un attimo di Uh Trovare un po' di roba Che non ci serve E tadan Di qui già si scende Nella parte più buia Di questo dungeon Ragazzi miei E la parte più buia Perché ci sono In realtà non è proprio buia Ci sono i blaze dentro Quindi immaginate quanto Pilieremo mazzate E per quello non ci vogliamo andare Ragazzi perché è abbastanza Pericoloso Oh Cristo No 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 anche perché ci sono Poi si danni Pezzi di stronzi Aia aia Pezzi di stronzi E fanno un male Oh Dio 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 Oddio Dio Allora In realtà che loro pigliano mazzate Da un buon Gruppo di mob Io voglio farmi magari Una pozione di cura Che sarebbe anche un'ottima idea Vediamo un po' Buttiamocela Pam Solo questi qua Mi ha dato Vabbè Potevo Mischiarmela di più Oh merda Aia Ma sarei mica stronzo Stupido spider Stronzo di merda Ragazzi lo bruciamo Magicamente Vai Stai lì Brucia Brucia satana Brucia satana Bravo Ok Mi ha droppato un po' di stringhe Aspettavo qualcosa di più Oh Oh No pure i sieve fish No raga C'è tutto ma non i sieve Ma perché la spada Mi li va così poco raga Non lo so Vi giuro cioè Oddio Due Non so perché la spada Mi leva così poco Mentre altri mi levano di più E' la spada farlocca E' quindi un po' una merda Vabbè Credevo fosse un po' più potente Invece non lo è Niente Facciamo il cyber Adesso la parte di The Wither Oh e qui Trato un'altra Oh cristo Quando trovi di spawner Di Di creeper Se sei più convinto Del fatto che Potrebbe succedere cose brutte Oddio 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 Non ho fatto nulla Vi giuro ragazzi Non è stata colpa mia È stata colpa di sto Stronzo Non muoiono Oh sento già il blade Guarda Ah Buongiorno Non è stata colpa mia Credo Quindi per il momento Io torno Da quest'altra parte Lasciamo stare ragazzi Avete risolvare qualcosa? Non credo Ok ci sta Ci sta tantissimo Ok vediamo Vediamo un po' Qui ci continua Ancora la zona Vediamo un po' Mi sembrano delle ceste Perché ho trovato Sta benedetta Questo benedetto Pezzo in più Di earth canister Però non Vedo niente Di troppo Allarmante Qui Manco un pezzo Di canister Che merda Che merda Questa Questa discesa Sta diventando sempre più complicata Ma a parte Che è complicata Ebbè questo ci sta Il fatto è che comunque Non troviamo mai nulla Quindi potremmo anche Scendere nelle profondità Degli abissi Uh ho visto qualcosa Di brutto No in realtà E' una società Mi ha immaginazione Meno male direi E proviamo A vedere di qua Non c'è nessuno No ok C'è una caverna Con tant'altro Uh aspettate Posso passare di qua Sì posso passare di qua E non ci sono manco Oh c'è una chest Oh pezzo di stronzo Chest che esplode È abbastanza Diciamo fatta bene Sta fatto della chest che esplode Ma rivedrà poco a qualcosa Non credo Perché si è esploso tutto Esploso Esploso tutto però Uh diamante Grazie per il diamante Qui ho trovato un po' di lapislazzoli Un po' di Credo ferro e smeraldi Però Non ci servono Anche perché gli smeraldi C'erano in un botto Ah quindi sono ritornato A capo una zona Dove c'era il dungeon Ricordate E Sinceramente Vorrei in qualche modo Arrivare a quella chest Però devo prima distruggere Questo spawner Ok Ucciso tutto Perfetto E così Già va meglio Allora Vediamo un po' Passiamo Voglio prendere quella chest E cercare di trovare Un canister Lì dentro Ci voglio Un blocco sopra Sono ferro Ragazzi Che merda Cioè potrei trovare Di tutto lì dentro Cosa trovi Del ferro Cioè Grazie Minecraft Ma magari non laghi anche Ci rende anche Tutto un po' più Carino Se chest Fanno abbastanza schifo Devo forse scendere giù Ragazzi Giù c'è solo un botto Di chest E c'è anche un sacco di roba Quindi Nice Uh 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 Oh Questa mi serve ragazzi Questa ve la mostro dopo Ve la mostro Molto carina E oh Eccolo qua Un canister Intero Questa volta Va bene Torce Prendiamolo sempre Canister Tre Me ne sono Trovate sei Se trovo altri due Abbiamo due core in più ragazzi E speriamo A quel culo Che ce ne troviamo Avrò due in più Guarda quanti torce ci sono Vabbè con l'infinità C'è l'ultima cosa qua Niente Torce solamente Ok Canister preso ragazzi E visto che ci siamo Facciamo anche così Bam Due canister Credo non si possono unire Quindi sicuramente Bisogna fare così E poi prendere un altro E fare così Bam ragazzi Due cori E mezzo Non ho mai trovato così tanti Di canister Sono felice di questa cosa Un altro cesto Con dentro Con dentro Se riusciamo a prenderla Magari Vediamo un po' Ehm Boh torce ancora Credo però ce ne siano altre qui Vediamo Smeraldi Smeraldi ovunque Ragazzi Non mi servono gli smeraldi Perché mi li date Qua c'è una piccola cosa E bene Niente Ragazzi Io direi che Avrò che se puntate è tutto Noi ci andiamo a esplorare La prossima parte Nel prossimo episodio Come sempre Asciuto un bel like Mi raccomando Arriviamo a mille like Come vi chiedo sempre Nella piximo Quindi mi raccomando Cerchiamo di arrivarci Comunque sia qui Che nella piximo Sia nella matpack Mi raccomando E anche nelle altre serie Ovviamente E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Se avete consigli Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti Noi ci diamo Nel prossimo episodio Della matpack Da Ulisse è tutto Ciao ciao ragazzi Fate sapere anche Se volete alla webcam O pre no